benvenuti ad un'altra puntata questo è uno speciale televendite di retro speciale infatti è una puntata un po particolare aspettavano anche noi speciale vai sorpresa ci devi di prima quello che dobbiamo commentare poi ma che divertimento c'è no artigiani lui no ultimissima generazione timissima proprio ma solo un euro e 29 129 euro di inserire questa è una cosa un po illegale zio ragazzi ma c'è li potete catturare tramite internet tipo pokemon rom selvaggia sta attaccati ma non li hanno arrestati tutti perché hanno detto queste cose ma la cosa la cosa bellissima sai cos'è è che è una palese copia dell' xbox 360 la console se il joystick i joystick sono identici si se parte una denuncia per plagio penso che sono coinvolte 50 aziende diverse neanche tipo dici cambio il il cerchio la x il triangolo e il quadrato per me è un joystick di merda quello della playstation prenderò 2000 insurti e la forma di xbox che non mi piace hanno fatto hanno preso il peggio di tutte le console mamma mia vale che c'è tipo l'illegalità della cosa mi stupefa tutto se tutto stupefatto mi fa diventare stupefatto video musicali si guarda c'è un wolf vsav strider punto tigli sono le roma che 1 244 activo uno sparatutto scorrimento beh che con la in teoria se funzionasse voi realmente senza rallentamenti sarebbe anche ma guarda stai vedendo marvel vs superheroes marvel e come con solo i video tipo di gameplay non ha quelle quella emulazione va come va la ppse pensavo fosse il video che mi stai no 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 allora non è che te lo prendi a fare pure a scatti ho scaricato la versione in HD del video opposta per farvi vedere che in realtà è il gioco che è rallentato le auto, il calcio ragazzi che vi frega di giocare a Nifo Speed l'ultimo tanto lì avete le auto a 129 euro questo gioco di auto ma me lo fai sentire un attimo che dice giocate anche voi il gioco del tennis se fa tutto cioè non è un videogioco ma ha una console legalmente ovviamente ma è bello che ci sono dei siti apposta quei siti apposta non sono legali si si poi siti loro cioè tu ti compri una cosa quelle cose lì si insomma le scatoletti le scatoline ben esperto ma è bello che questi sono anche tipo non sono cloni sono veri e propri giochi si The Banisher guarda qua cioè seri Marvel vs Capcom Super Heroes nuovo nuovo c'è la data 1983 Marvel ma poi c'è scritto proprio pure sotto Capcom tutta insomma la firma digitale la possibilità si si no sono originali è quello che mi tipo o hanno pagato i diritti ma non penso che Capcom gli abbia venduto i diritti per poter mettere questi giochi in questo proprio di console se Capcom sente quello che dice Roberto Artigiani fa pena e manco vi fanno cavolo sono così ignoranti che neanche pensano che sia legale sto fatto Fiat cos'è ma come questo è un grande gioco è cosa come si chiama 1940 eh esatto eh 1945 no è il modello dell'aereo che non quanto era bello sto gioco da epilettici però va bene potete catturare i più moderni gli ultimi usciti sì così 1995 ma loro puntano sui nonni tu ti chiedi nonno comprami Xbox e quello ti arriva con il super mega power questo si approccia a quel tipo di pubblico lì fa guarda compra il nipotino la consolina te lo fai felice poi il nipotino tipo non ti rivolgerà più la parola sicuramente no in realtà tipo bisogna metterlo questa rispetto alle altre poli station e così via non ha cloni ma giochi veri e propri quindi in un certo senso questo è quello che pensi tu no ma scusa cioè guarda questi sono giochi da sala giochi uno a uno sì sì sono giochi da sala giochi che poi l'emulazione faccia pena perché rallentate e tutto quanto e così ma io vorrei vedere fisicamente la cosa in azione o comunque uno che la prova e la accende ma quello che mandano dietro non è detto che sia quello che c'è prima console io penso che questa che questa prende fuoco nel sonno sta console è pericoloso pure tenessela a casa sì sì nel registro registrate altri che cazzo vuol dire registrare videogame eterno eterno sì il videogame eterno è il mame che puoi scaricare gratis anche il mame ha una fine comunque non è che la cosa lì la cosa lì ormai la sapete fare azzone che poi se veramente se la vanno a comprare i nonnini che vogliono far regale ai nipotini voglio vedere il nonnino che va scaricando a rom su internet in modo di spiegare come fa hai capito hai capito ma secondo me tipo dentro avrà anche tipo la base del mame aggiornabile a questo punto non lo so non so ma il prezzo è molto accattivante la battaglia nipotino guarda come istiga ma io penso che non ci gira mai il gioco tipo Killer Instinct è che Killer Instinct forse no cioè va lento anche ma guarda guarda Bomberman è rallentato dai ragazzi se quella è la console che gira questi sono 129 euro che te li puoi buttare in faccia proprio ma si mi compro una playstation 3 o un xbox ma si ma infatti ma perché comprare una console che al massimo ha 2 3 giochi quando puoi comprare questa è che te li scarichi dall'internet ragazzi dall'internet li catturi con le pokeball accattatevi la console è interna ragazzi interna nella tomba ve lo portate questa console troppo che ragazzi questa è una spesa eterna voi comprate una volta il gioco e il resto li scaricate illegalmente da internet cioè non è i giri che sono fatti per questo ma magari ci stanno le clausole che devi avere il gioco però loro non le stanno dicendo queste cose ma io ho quasi la certezza anche perché poi che non ci saranno questi giochi dentro no secondo me secondo me si poi è strano perché secondo me secondo me tipo dentro l'avranno messo le mame quelle senza protezione di copyright che ce ne sono comunque parecchie e loro ti dicono però per scaricare i giochi magari che tipo oh dio stanno mostrando metaslag ah se questo questo deve andare a scatti infatti vediamo si guarda come scende piano effettivamente vanno a scare oddio però non mi sembra che vada piano flavio guarda con l'esplosione metaslag è pesante proprio di tuo appunto in effetti non c'è nulla scherzo si però alla minima esplosione vai a 3 allora guardate che effetti ma è bella che è tutto alimentato via usb ed è tutto wireless così lanci joystick da finestra urà console secondo me tipo appena la tiri fuori senti tipo hai presente quelle cinesate che le prendi in mano e pesano 10 grammi la plastica che prende fuoco da sola questa dovete stare attenti non va a comprare però sembra fatto bene il pad e il pad stranamente si cioè sembra proprio cioè si vede quando è un plasticone invece tipo la console si vede lontano un miglio che è plasticone ma tu te la immagini in una scena che il nonno compra a natale questa cosa dal nipotino il nipotino apre pensa che è l'xbox e poi ci rimane di merda c'ha la vbox non capisco come fa a essere alimentato a usb ma secondo queste qua sono quelle cinesiate che tu le apri e scopri che all'interno in realtà c'è tipo una di quelle chiavette android che costano tipo 15 euro perché non hanno nemmeno l'hdmi però ti danno un sd aspetta che mi sa che sta salutando che dice quindi ragazzi sbrigatevi guardalo che ci gioca pure lui sul vbox live trovi anche Roberto Artigiani magari lo incontriamo cioè ma perché mi fa vedere queste cose il grandissimo Roberto Artigiani dai ok allora cliccate mi piace alla nostra pagina di facebook iscrivetevi al nostro canale youtube guardatevi gli altri nostri video e grazie per averci seguito ci vediamo alla prossima puntata di retro spot alla prossima bella ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.